Questo uccello preferisce mangiare le ossa invece della carne. Ti presentiamo l'avvoltoio barbuto, noto anche come gipeto. Gli avvoltoi mangiatori di ossa sono conosciuti come spazzini in quanto banchettano con carcasse morte. Ma questi particolari avvoltoi non sono interessati alla carne. Invece, cercano le ossa. La loro dieta è composta per il 90% da ossa, il che li rende l'unica specie di uccelli viventi specializzata nel nutrirsi di ossa. Ottengono i loro nutrienti dal midollo ricco di grassi ed energia. Possono ingoiare un osso intero, ma quando è troppo grande, hanno imparato a rompere l'osso portandolo in alto nell'aria e poi lasciandolo cadere sulle rocce sottostanti per esporre il midollo nutriente. Hanno un esofago flessibile e un potente sistema digestivo forte come un bagno acido, che consente loro di ingoiare e digerire ossa lunghe fino a 75 cm. Svolgono anche un ruolo cruciale nell'ecosistema come squadra di pulizia per prevenire la diffusione di malattie.